Sono sempre più frequenti le segnalazioni di disagio che pervengono ad Alcamondo Blog a causa del protrarsi dell'emergenza rifiuti ad Alcamo. Il servizio di raccolta di rifiuti organici infatti è praticamente in tilta a causa degli ormai noti problemi riguardanti le piattaforme di conferimento. Ma ad aggravare la confusione tra i cittadini c'è anche il fatto che non tutti sono a conoscenza degli avvisi che il Comune pubblica sul proprio sito web istituzionale dove negli ultimi giorni vengono comunicate continue variazioni e improvvise sospensioni dei turni nelle zone cosiddette verde e azzurra in cui la mappatura del territorio alcamese è suddivisa per organizzare il servizio di raccolta dei rifiuti. Occorrerebbe in questa particolare situazione emergenziale una più diffusa capillare attività comunicativa per avvisare tempestivamente tutta la popolazione.